Sostenibilità Per noi di Valpaint non è solo una parola, una moda, un concetto astratto. Contribuire a proteggere l'ambiente e migliorare la qualità della vita delle persone crediamo debba essere una priorità, un dovere. Per questo, già nel 2006, abbiamo ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 alla quale si aggiunge nel 2009 la certificazione ambientale ISO 14001 per il rispetto dell'ambiente nell'ambito dei processi produttivi. Ogni cosa che facciamo, ogni materiale che utilizziamo, ciascuna iniziativa che prendiamo deve per noi avere la migliore componente green possibile. I pannelli che usiamo per showroom rastrelliere sono ad esempio conformi alle norme in termini di emissioni di formaldeide. Per le fiere di settore alle quali partecipiamo, riduciamo l'impatto ambientale per i trasporti producendo gli allestimenti il più possibile direttamente sul posto. Il depuratore per le acque industriali presente in Valpaint garantisce minore spreco di risorse idriche grazie al conferimento in discarica dei soli fanghi di depurazione. Dal 2019 abbiamo migliorato l'efficienza energetica del nostro stabilimento con l'attivazione di un impianto fotovoltaico. Questo intervento ci ha permesso l'abbattimento della CO2 non immessa nell'ambiente per più di 1.200.000 kg, equivalenti alla CO2 assorbita da 7.200 alberi. I barattoli Valpaint sono certificati Plastic Second Life, composti cioè da almeno il 30% di plastica riciclata, tracciata e conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'IIP, ossia l'Istituto Italiano dei Plastici. Solo nell'anno 2023, grazie all'impiego di questa Plastic Second Life, abbiamo risparmiato oltre 44.000 kg di plastica vergine. Persino la carta, che usiamo per i nostri cataloghi, ha una certificazione che ne garantisce l'origine da foreste gestite in modo sostenibile e controllato, così come la base vegetale degli inchiostri utilizzati dai nostri fornitori deve rispettare criteri ecologici per noi fondamentali. Tutti i prodotti Valpaint sono VOC-LOW, cioè a basso contenuto di composti volatili dannosi per l'ambiente e per la salute umana, e possiamo vantare la prestigiosa certificazione giapponese F4STARS relativa alla formaldeide e la classe A+, secondo la norma ISO 16000, che ne indica cioè il più basso livello di emissioni indoor. Inoltre, abbiamo avviato il percorso di definizione dell'insieme di regole comuni, la metodologia di calcolo per definire le prestazioni ambientali in conformità alle direttive ISO 14.040 e ISO 14.044, per poi arrivare al documento EPD di dichiarazione ambientale dei prodotti. La nostra filosofia sostenibile prevede poi un'azione particolare nell'ambito sociale, con progetti di sostegno concreto ad associazioni, organizzazioni e dollus impegnate a migliorare la vita a persone con disabilità motorie, sensoriali e psichiche. In Valpaint prendiamo molto sul serio la sostenibilità, tanto che abbiamo investito in una divisione interna all'azienda dedicata proprio alla sostenibilità, sicurezza e qualità, creando anche un gruppo di lavoro che organizza incontri sistematici e periodici per affrontare tali argomenti, come pure partecipare a convegni di settore dove esporre la nostra visione e il nostro operato. Stiamo facendo molto, ma possiamo e dobbiamo fare sempre di più. In linea con questo proposito, stiamo progettando l'ampliamento del nostro impianto fotovoltaico, che ci permetterà di raggiungere la piena copertura del fabbisogno energetico della nostra sede, con un importante abbattimento delle emissioni di CO2 nell'aria. Il nostro obiettivo è diventare un'azienda completamente sostenibile e per questo ci impegniamo a continuare a sviluppare prodotti e processi più green, investendo in tecnologie innovative e collaborando con fornitori sensibili al fine di ridurre l'impatto ambientale della nostra filiera. L'ambiente è responsabilità di tutti. Proteggiamolo insieme. Grazie a tutti.